Grazie a tutti. Grazie a tutti, dottore, per questo riconoscimento internazionale. In che cosa consiste? Sì, Audiology Research è una rivista internazionale che è dedicata alla pubblicazione di articoli nell'ambito della ricerca audiologica, vestibolare e dei disturbi del linguaggio. È una rivista che utilizza il sistema cosiddetto peer review, cioè significa uno staff editoriale scelto tra i maggiori esperti del mondo, vaglia gli articoli che vengono proposti per la pubblicazione e li sottopone a una rigida procedura di selezione. Io sono stato chiamato appunto a dirigere e a nominare lo staff editoriale, scegliendolo tra i maggiori esperti in questi particolari settori. Si tratta di medici che prestano la loro attività professionale nei più prestigiosi centri di tutto il mondo? Sì, allo stato attuale ho avuto già un largo consenso di partecipazione da parte di colleghi che sono esperti nella materia e che ovviamente prestano la loro attività nel campo clinico della ricerca nei più prestigiosi centri. Per nominarle solo alcuni, il John Hopkins, la Cleveland Clinic, la Stanford University negli Stati Uniti, ma anche in altri continenti, nell'Asia, in India, in Giappone. Quindi abbiamo veramente uno staff editoriale di primo livello. E in che cosa consisterà ora il suo lavoro in questa rivista, visto che dirigerà lo staff editoriale? Il mio ruolo per il quale sono stato chiamato a dirigere lo staff editoriale è quello di editor in chief. L'editor in chief innanzitutto si preoccupa di affiancarsi a uno staff editoriale di primo livello in cui ogni esperto viene designato come esperto di un singolo settore. Per cui gli editori di ciascun settore cureranno la selezione dei lavori e quindi faranno sì che questa rivista possa assurgere a un livello elevato nell'ambito della produzione scientifica internazionale. E il suo settore di particolare riferimento lei è il luminare nel campo della vestibologia? Sì, il mio intento è probabilmente a quello degli editori che mi hanno scelto per rivestire questo ruolo è di indirizzare la rivista, soprattutto l'interesse della rivista nell'ambito della vestibologia che è la scienza che si occupa dei disturbi dell'equilibrio. E quindi in particolare si occupa della vertigine e delle problematiche che interessano le alterazioni dell'equilibrio nell'uomo. Quali sono i sintomi, i disturbi, chi ne soffre e quali i trattamenti? Beh, i disturbi sono quelli di percepire in maniera distorta il rapporto con l'ambiente. In particolare la sensazione di rotazione, quella di sentirsi ruotare o di vedere l'ambiente ruotare, è quella che comunemente viene definita vertigine. Molto spesso la vertigine in fase acuta si accompagna a dei sintomi accessori che sono i cosiddetti sintomi neurovegetativi, la nausea, il vomito, la sudorazione, il pallore. Sono sintomi dovuti a un cosiddetti riflessi vagali e molto spesso sono quelli che maggiormente preoccupano il paziente o chi gli sta intorno. La modalità di cura delle vertigini spazia da terapie farmacologiche a terapie riabilitative. In particolare in quest'ultimo ambito siamo particolarmente conosciuti in tutto il mondo per delle tecniche che servono a curare in maniera rapida e efficace un particolare tipo di vertigine che si chiama vertigine parossistica posizionale benigna. In che cosa consiste? Come si individua? Come si interviene? Si interviene, innanzitutto si individua in maniera abbastanza semplice devo dire con una punta di orgoglio che ormai la maggior parte dei colleghi e amici che collaborano con me in quest'ambito, parlo dei medici di medicina generale, dei medici di primo soccorso, dei neurologi, hanno ormai la consuetudine, abitudine e capacità di individuare solo dall'anamnesi, solo dal racconto del paziente questo tipo di vertigine che è posizionale, cioè è scatenata dai movimenti del capo e avvertita dal paziente tipicamente al risveglio al mattino nel movimento di rimettersi in piedi dal letto e ogni volta si ripete con i movimenti di flessione, estensione del capo nel chinarsi in avanti o nel sollevare il capo. La si riconosce molto facilmente guardando i movimenti degli occhi, in questo consiste il nostro esame vestibolare attraverso degli strumenti che amplificano l'immagine dell'occhio, si chiama video-onistagmoscopio noi seguiamo questi movimenti automatici degli occhi e riusciamo a diagnosticare la vertigine e poi a effettuare la terapia che consiste nelle cosiddette manovre liberatorie. Queste manovre in quanto tempo si può curare questo tipo di vertigine da posizionamento? La peculiarità di questo tipo di vertigine è il poterla curare istantaneamente saper far bene la manovra significa liberare, come dice il nome stesso che è stato attribuito a queste manovre liberare il paziente dal sintomo in maniera istantanea. Il segno clinico del nistagmo ci consente praticamente di far muovere gli otoliti, cioè questi cristalli che si spostano all'interno del labirinto e guidarli al di fuori del posto, cioè del canale semicircolare, dove sono causa del disturbo. Per cui la manovra, se condotta bene, riesce a liberare magicamente il paziente in maniera istantanea dal problema. Quindi basta una manovra? In genere sì, per chi ha acquisito una notevole esperienza nell'eseguire queste manovre il 95-96% dei pazienti sono liberati al primo trattamento e in ogni caso si raggiunge sempre il 100% della piena risoluzione anche nei pazienti con forme più resistenti dopo aver eseguito qualche manovra in più. Ci sono particolari categorie di persone che soffrono di questo tipo di disturbo? Diciamo che esiste una fascia di età maggiormente a rischio che è intorno alla quinta decada di età, però nessuna età è risparmiata. Noi abbiamo esperienza di vertigini parossistiche curate nei bambini, anzi una review mondiale fatta appunto dalla Clinica, ha citato la nostra esperienza come uno dei pochi centri dove vengono osservati anche bambini con questo tipo di patologia per una condizione particolare. I nostri pazienti hanno una modalità di accesso molto rapida tramite il pronto soccorso. Il litter per arrivare all'esame vestibolare è molto rapido, per cui i tempi di attesa dall'esordio dei sintomi alla valutazione e alla terapia è molto breve. Sono molto brevi. Con questo suo riconoscimento internazionale, dottor Asprella, il Madonna delle Grazie si conferma un polo di eccellenza in questo ambito e non solo. Sicuramente è un motivo di orgoglio che accresce la notorietà del nostro ospedale anche all'estero, dove gli inviti a partecipare a congressi internazionali si moltiplicano. Ricordiamo i suoi prossimi appuntamenti in Brasile, in Argentina, negli Stati Uniti. Sì, in Brasile e in Argentina sarò in due appuntamenti molto importanti, in Brasile per il meeting della Società Autologica Nazionale Brasiliana, in Argentina per la Barani Society. In tutte e due le occasioni presenterò dei libri, nei quali sono inserite le tecniche che portano il mio nome, e che vedono negli altri autori, negli altri partecipanti alla produzione dei libri, i migliori specialisti mondiali. In chiusura, dottor Asprella, quali sono le prospettive nel campo della vestibologia? La ricerca è molto attiva ed è attiva soprattutto nello scambio di informazioni e di collaborazione con altre specialità affini, in particolare la neurologia. Il futuro è quello di puntualizzare la diagnosi e la terapia di alcuni tipi di vertigini ancora poco conosciute nelle nostre aree geografiche, come la vertigine emicranica. Pochi sanno che la vertigine è uno dei sintomi più frequenti dell'emicrania, una malattia di squisita pertinenza neurologica, ma che molto spesso interessa il vestibologo, proprio perché si esprime come sintomo con il disturbo di equilibrio. Quindi si lavorerà in stretta sinergia con l'ambito neurologico? Qui a Matera posso dire che già lo si fa e speriamo di poter estendere questa stretta collaborazione in tutto l'ambito nostro nazionale, anche perché è una consuetudine che nei paesi anglosassoni ormai da molti anni è in vigore, vigente. Il dottor Jacinto Asprella, dell'unità complessa di Iotorino-Laringoiatria dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, ha nominato editor in shift della prestigiosa rivista internazionale Audiology Research, sarà anche relatore di simposi e convegni internazionali in Brasile, in Argentina e negli Stati Uniti nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Grazie mille dottore, grazie per aver accettato il nostro invito, complimenti ancora, noi ora ci fermiamo lì nella regia. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.